Dal 2 al 6 ottobre, Fiera Milano ospita la rassegna internazionale dedicata alle tecnologie di produzione. Giunta ormai alla ventottesima edizione, BIMU presenta la più qualificata offerta di macchine e utensili a asportazione e deformazione, robot, sistemi di automazione e tecnologie ausiliarie. Sotto i riflettori, circa 3.000 macchine, per un valore complessivo di più di 466 milioni di euro. Il 47% delle imprese espositrici proviene dall'estero, in rappresentanza di circa 28 paesi, a testimonianza del carattere internazionale dell'evento. Tutta l'innovazione per l'industria manifatturiera. Dal 1958, BIMU rappresenta la vetrina per il settore. T-Race è un'azienda nata da due ex dipendenti, dirigenti di un'altra azienda sempre del settore, che hanno deciso finalmente di coniugare le loro esperienze, mettendoli in comune per il bene della società che ci circonda. T-Race è un astratto di parola, un'accezione, la T indica track binario, guida e race vuol dire pista di scorrimento. Per cui, essendo un'azienda che produce guide lineari, questi due accostamenti, queste due parole, sono azzeccate. Ma se poi si pensa che si trasformino addirittura in T, team e race, che diventa gara, competizione e sfida, è proprio ciò che è la nostra vision. Cioè, dimostrare con le nostre capacità di arrivare anche noi sullo scenario del mercato lineare, molto interessante nella meccanica, perché il compito è quello di far scorrere con organi meccanici grossi carichi, arrivare ad ottenere una, nella vision futura, oltre che dei valori oggettivi, cioè lavorare in un'organizzazione sana, in cui tutti tendono ad avvicinare nello spazio che lega la T e la race, unire questo spazio nella competizione per arrivare a fidelizzare i clienti, ma non solo produttori di guide, ma una engineering. T-Race deve essere ricordata come un engineering, cioè quell'azienda che è interpellata dai clienti, risolve e customizza le loro soluzioni. A noi portate i problemi e noi risolviamo, cercando sempre l'unione e il contatto con il cliente. Il cliente è il padrone della nostra azienda. I nostri mercati sono ipoteticamente tutti, perché dove c'è uno scorrimento ci può essere un'applicazione. Andiamo dal mondo ferroviario, dal mondo dell'automotive, andiamo nel mondo dell'imballaggio, cioè dove c'è un movimento c'è una guida, meglio se fosse T-Race. Però i prodotti che sono poi collegati alla risoluzione dei prodotti, dei problemi possono essere sia prodotti che si sviluppano sulla tecnologia dello scorrimento tramite rotella o tramite gabbia a sfere. Sono due concetti diversi, ma che hanno l'unica finalità, far scorrere col minor coefficiente di attrito il carico. Siamo un'azienda che è solo nata otto anni fa e quindi pur avendo connotato internazionale, abbiamo una filiale in Germania, collaboriamo e delocalizziamo in America, in tutto il mercato industrializzato siamo presenti con distributori e adesso stiamo aprendo in Cina. Per cui con tutta questa iniziativa e dinamicità della stessa azienda, che poi è raffigurata dai cofondatori, abbiamo deciso in una biennale macchine utensili di essere anche presenti, visto che lo siamo stati molto all'estero, questa volta abbiamo deciso di farlo in Italia in occasione delle macchine utensili, dove il prodotto, guarda caso, serve per le riparerie laterali e delle protezioni delle stesse macchine utensili.